Bene, buongiorno a tutti. È un grande piacere essere qui oggi, seconda giornata del GIM. E sono qui con Azim Latib, che è un protagonista sicuramente del congresso, insomma, e non solo. Insomma, non ha bisogno di particolari introduzioni, soprattutto nella nostra comunità GISE. Quindi siamo qui per condividere il GIM GISE Fellow Course, che ha il kick-off quest'anno. Le room, io sono stato realmente impressionato, perché le room sono state piene. Non penso ci sia stata una sessione replicata nella stessa maniera, come presenza, più di 200 persone. L'età under 40 nella maggior parte dei casi. Quindi, devo dire, insomma, un successo proprio dall'inizio. Sì, è il primo corso per farlo, che abbiamo pensato di mettere a fare durante il GIM. L'abbiamo chiamato il GIM GISE, perché secondo me questa collaborazione tra noi in Italia e con il nostro comitato scientifico GISE è importantissimo per andare avanti. E fa vedere, se lavoriamo insieme, quanto siamo più forti in Italia. Quello che mi è piaciuto molto del corso era il fatto che avevamo tanti italiani come protagonisti, come relatori, e abbiamo fatto vedere il livello in Italia che è veramente molto alto. L'idea del corso era di prendere questo momento del GIM e di condividere gli esperti, la nostra esperienza con i più giovani, di avere questo corso per i più giovani, non per gli altri. E di avere un corso molto interattivo. Scegliendo, se qua abbiamo scelto diversi argomenti, la parte basale, i basics del PCI, la pitticia dell'anatomia complessa, le lesioni della bifurcazione, la pitticia primaria, quando ci sono problemi, le occlusioni croniche e poi quello che piace a tutti, che sono le complicanze. In realtà, quando si cresce un pochettino, si cerca di realizzare ciò che avresti voluto fare quando eri tu young, probabilmente. Dici, non è che siamo così vecchi, adesso non ci vendiamo così male. Però a me sarebbe piaciuto tantissimo, quando avevo 28-30 anni, avere, come dire, anche una platea dove esprimersi in prima persona, senza, voglio dire, un passaparola di cinque persone, e ammettere o dire chiaramente gli errori, parlando con gli esperti, e lì ce n'erano tantissimi, da Zim, molta parte del GIS, l'apparato, c'era Antonio Colombo, Di Mario, c'erano, diciamo, presenze europee, come va Migen e molti altri, molti altri, insomma, super esperti sull'argomento. E devo dire, la cosa interessante è che la facoltà è rimasta dal mattino alla sera. Cinque ore continue, senza, con le solite dei faianzucce, che insomma, uno a un certo punto deve uscire anche dalle rume. Cioè, voglio dire, niente, io, insomma, Antonio, ovviamente, è stato, come al solito, il più giovane di tutti, cioè, si può dire così, perché a un certo punto, quando gira nella maniera giusta, dove prende, insomma, la parola, la passione, ecco, con i giovani, è diventato il più giovane dei giovani, non so. No, infatti, quello, da tutte le presentazioni, quello che mi ricorderò per sempre, era veramente la prima presentazione che ha fatto Prof Colombo, che è dove lui ha riassunto le lezioni più importanti che ha imparato facendo questo lavoro da 30 anni. E io devo dire che ho dovuto aspettare, lavorare con lui 11 anni, per imparare tutti questi tips and tricks. In 20 minuti ha fatto un riassunto di tutto quello che io ho dovuto aspettare 11 anni, per cui era molto bella. Io spero che la rifacciamo. Assolutamente. Questo è solo l'inizio, ci saranno nuove edizioni. Abbiamo preso nota come, insomma, lì stavamo anche come osservatori e responsabili di un processo che vogliamo migliorare. Ovviamente ci sono sempre margini di miglioramento. Abbiamo preso nota insieme a vari livelli di ciò che l'anno prossimo potrebbe essere incrementato. Ecco, vorrei chiudere con questa cosa, che è stata interessante, che tutta la lettura e tutta la parte, anche di Antonio, eccetera, si riassumeva in un concetto. Quando hai un dubbio è una certezza. Cioè, alla fine era così. E quindi, insomma, io vi ringrazio come presidente del GISE. Veramente ringrazio di cuore a Zim, con cui lavoriamo strettamente anche in molti altri progetti. Francesco Giannini, che non è potuto essere qui, e Antonio Colombo, che veramente ci ha ospitati tutti in questa sede. Anche lui, ahimè, non è potuto essere oggi qui a discutere con noi. Gli sarebbe sicuramente piaciuto. No, infatti, io spero di vedere anche più persone l'anno prossimo. Abbiamo fatto una valutazione per capire cosa volevano i giovani per l'anno prossimo e mettiamo in atto questo. Sarà sempre più attivo, sempre più intorno ai casi clinici e sempre più per i giovani.